Prende velocità all'autostart, lo stacco in questo istante, Socrate rocca all'attacco di Shakira e sfila all'esterno veloce Silvia Baby Lux, Silvia Baby va su Socrate e lo sopravanza dopo 200 in 14 spaccato. Socrate prova a rientrare a Silvia Baby, due apparigliati, poi Shakira, ancora Smith, Sogno, Soltera, 400 in 28,4 sul mio cronometro. Socrate al comando, Shakira di rincalzo, poi ancora Smith, Silvia Baby all'argo, all'esterno anche Sogno dei Ronchi, chiude il gruppo Soltera, intanto i 600 vanno via. In 45 ha rallentato il ritmo, quindi Socrate, quali che si stanno disponendo in doppia fila, Socrate in vantaggio, Silvia Baby all'argo in corda, Shakira all'argo Sogno, poi Smith, infine Soltera, gli 800 in 1,1 e mezzo. Un bocco della retta, opposta alle tribune, Socrate su Shakira, all'argo Silvia Baby, con a ridosso Sogno dei Ronchi, 17,4 il chilometro. Mancano 500 metri al termine con Socrate che inizia ad allungare, le sue spalle Shakira e Silvia Baby in lotta, in coppia, poi Smith, Sogno all'esterno che poi muove in terza, 300 alla conclusione, Socrate in fuga davanti a Shakira. Silvia Baby all'argo, Sogno in terza, si libera anche Shakira, retta di arrivo, Socrate in vantaggio, Sogno che insegue, di dentro Smith, Sogno che guadagna parecchio, Socrate però ancora vantaggio sul palo, Socrate, Sogno, Smith, Shakira, Socrate si salva. Dal finale di Sogno dei Ronchi, perlomeno la sensazione è questa, 2,03,7 sul mio cronometro, media intorno al 17,3, 17,4 la media, Socrate Rocca, Filippo Rocca, Tiberio Cessere e i colori della scuderia Sante Eusebio, la quota al totalizzatore di 2,10. Grazie.